I carabinieri nasse nell'ambito di un'operazione denominata olandese volante coordinata dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio e riguardante un traffico illecito dai paesi bassi di nuove sostanze psicoattive, vasto gruppo di molecole principalmente di natura sintetica con proprietà farmacologiche e tossicologiche particolarmente pericolose per la salute dei consumatori. Ha eseguito 19 perquisizioni nelle province di Genova, Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Como, Verona, Udine, Trieste, Firenze, Prato, Perugia e Lecce. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 70 grammi di MDPB, catinoni sintetici di cui 10 grammi in confezioni giunte da Amsterdam, 2 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. Nel corso delle attività investigative iniziate nel 2013 il reparto operativo del comando NASA, complessivamente arrestato in flagranza di reato in ambito nazionale 22 persone a seguito di altrettante consegne controllate di spedizioni contenente NPS, sequestrato 200 spedizioni per un totale di 3,2 kg di NPS per un valore sul mercato di circa 700 mila euro. Le pericolose materie prime che dal 2010 sono state causa di decine di decessi e forti intossicazioni degli assuntori in tutta Europa, in Italia si registrano ben 50 casi, principalmente provengono dalla Cina e venivano confezionate nei Paesi Bassi in involucri per lo più riportanti le strutture molecolari delle sostanze in esse contenute, pubblicizzate su forum online e siti web dedicati, commercializzate pure, non tagliate attraverso internet, distribuite sul territorio nazionale e provenienti oltre che dai Paesi Bassi anche da Spagna, Inghilterra, Germania e Filippine ricorrendo a ignari i corrieri nazionali ed internazionali nonché alle poste italiane.